ciao ragazzi un saluto a tutti da mario inter e buon pomeriggio a tutti allora prendetelo come un dissing prendetelo come un video normale ma oggi devo rispondere a tre youtubers anzi devo rispondere a due youtubers gobbi e uno invece gli devo dire una cosa importante partiamo subito dal terzo quello che gli devo dire la cosa importante no che viene dalla puglia e dice di tifare inter no io capisco il tuo personaggio lo capisco il tuo personaggio ci può anche stare ma offendere il popolo sardo solo perché barella un calciatore di serie a viene dalla viene da viene da cagliari tu sei malato tu sei un malato mentale inutile che mi scrivete su instagram che mi scrivete sotto il video hai visto cosa ha detto quello lì lo volete capire una persona malata di cervello non è un maleducato perché se dico che è maleducato vado contro la sua famiglia non mi permetto non mi permetto perché la sua famiglia non la conosco ci mancherebbe altro alzo le mani però quello è una persona scostumata lo volete capire sì o no che poi che poi pure scema e non ci arrivate voi perché voi non ci arrivate io con questo qui ci ho lottato per tanto tempo allora se tu mi dici che sei sempre stato a favore di roberto mancini e poi alla fine roberto mancini a barella solo porti il nazionale lo fa giocare titolare già lì hai fatto il primo flop ma i tuoi iscritti non ci arrivano perché sono tarati come te seconda cosa perisic per te era un campione ora invece un flop un flop è un flop cioè ragazzi ma di che cazzo stiamo parlando comunque mi scuso io con il popolo sardo ragazzi noi youtubers interisti per fortuna per fortuna non siamo tutti quanti come lui forza nicolo barella e speriamo bene speriamo bene le prossime partite perché ci serve ci serve veramente come il pane detto questo per te amen poi voglio rispondere iniziamo con i gobbi voglio rispondere alla persona più grande no max max le jason fè max fai tanto l'intelligentone max c'è veramente fai tanto l'intelligentone non hai capito il senso del mio video e a mario se non sarei già il confronto max ma porca miseria ma io ho fatto un video a favore della juventus se tu ci pensi bene io ho fatto un video a favore della juve dove dico è vero che l'inter deve pensare a vincere la partita con la samp ma se dovesse vincere uno tra milan e juventus preferisca il milan perché non è cioè posso capire roberto palermo che non ha capito questo video ma tu che cavolo max perché perché la juve ha un dibala che se si riprende come ha fatto ieri l'assist è fortissimo un cristiano ronaldo che segna sempre temo di più la juve cosa ho detto di male max anzi alla fine ho un complimento per voi se lo volete accettare come complimento innanzitutto stai sotto e taci però va bene se lo vuoi accettare questo complimento lo puoi anche accettare ma tu non l'hai nemmeno accettato perché tu nemmeno l'hai capito il video sei proprio un gobbo ho detto alla fine temo di più la juve perché se si riprende la juve sono cazzi amari per tutti quanti no perché la juve da metà gennaio in poi fa sempre il filotto di vittoria fino a vincere lo scudetto ok ma se tu non si regge il confronto ma chi cazzo ha detto qualcosa di male max cioè veramente sei proprio un bovo guarda ma come va poi c'è roberto veramente lo devi prendere con il cricchetto che ci arriva ecco perché dico max posso capire roberto che non ci arriva ma tu roberto invece caro mario in te io sentivo non il video cosa da dire che io ti ho difeso con pacciani che cazzo c'entra quando io vi dico che roberto palermo e max legge son fe mi vanno contro che non hanno pietà per me riguarda il calcio riguarda l'inter ok perché io sinceramente non faccio non faccio sempre video come perde la juve sfotto su instagram no perché sono quei 15 secondi però non è che faccio sempre video contro la juve tipo juve fiorentina io non ho fatto il video su youtube voi invece siete sempre lì pronti per fare il video ormai voi dite che la la juve è la nostra sessione ma voi non siete da meno eh voi non siete da meno voi voi fate più visualizzazioni quando perde l'inter che quando vince la juve cioè raga ma di che cazzo stiamo parlando poi un'altra cosa ecco perché vi reputo veramente due scemi in questo video che avete fatto perché scemi in senso ironico eh ci mancherebbe altro perché vedi mario inter facevi i calcoli ha fatti i calcoli e facevi i calcoli o la registrazione me la sono registrata siamo qui come fallici ti vengo a prendere mo abbiamo il milan e la battemo prendiamo il napoli e la battemo prendiamo l'inter e la battemo eh scusa questi non sono calcoli ah 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 cioè dici a me che facci i calcoli e poi alla fine tu fai più calcoli di me ma donna mio che arretrato Max dai invece Roberto Palermo io ho difeso Mario da Pacciani che io avevo gli iscritti che io avevo spot mediaset minchia che due coglioni cambia disco cioè ma veramente questi qui sono i youtubers giuventini cioè questi sono i youtubers giuventini ma veramente che vergogna che degrado che degrado poca roba state sotto abbiamo perso cioè alla fine non è cambiato niente la settimana scorsa l'abbiamo approfittato noi ora non avete approfittato voi però per il momento state sotto e zitti state sotto sotto Max stai sotto stai sotto stai sotto stai sotto stai sotto